Buongiorno ragazzi, siamo qui a Marina di Massa oggi perché vogliamo visitare questa colonia abbandonata la colonia attore motta, costruita dal 1927 fino al 1936 e abbandonata negli anni 80 compresa di 35.000 metri quadri di cui 7.200 al coperto Cazzo ma te sei giusto? Mozza te l'hai studiata io vado un attimo di qua, questa ragazzi era la piscina alla mia destra che ormai è ricoperta interamente dall'erba ora usciamo e proviamo ad entrare dal re eccoci ragazzi siamo dentro, siamo riusciti ad entrare ora faremo un giuretto siamo fatti accompagnare dal proprietario del parco di fianco alla colonia per poter entrare a vedere l'ultimo si potremmo morire aspetta che vado magari per te fondo perché l'ultimo si potremmo morire aspetta che fresco che c'è qui che fresco che c'è qui è qui è qui Favio può farlo, non ti accompagnare, mi mette le vede la porta lì è andato su un lato saliamo 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 Vabbè, te fallo Mi hai fatto le foto fuori dalla finestra, niente, non c'è niente Di qui poi non si sale più, questo è l'ultimo piano Ok Tanto per sapere Senti qui il rumore del mare Guarda queste stanze Uno stereo, rotto Vabbè, questo è un armadio C'è un lavantino rotto Dove sono andati? Un po' diviso Di là cosa c'è? Di là in fondo non c'è niente Come lì non è un uomo Guarda giro un bottiglio Ma qui ci viene Eh? Non c'è niente Qui è qua C'è niente C'è niente Infatti È l'unica cosa sana Dove è andato? L'ho sceso un'altra volta? È sceso ancora il signore di prima Vai, te fai le foto che... No Eh, qui qualcuno si è divertito Ciao Ciao Vai tu Sì sì vado piano infatti perché Non è molto sicuro Vabbè Occhio qui c'è il vetri si scingola eh Eh vabbè ovvio Di sotto dove? Eh infatti Eh vabbè vero? Quanta luce Guarda che bello dipinto Vedendo qui il dipinto con il dinosaurio è fighissimo Eh guarda anche di qua vabbè l'hai visto qui all'entrata? Eh Aspetta qui no? Aspetta mi... Mi serve luce qui ma non si vede niente Eh oh Di qui cosa c'è eh? Di qui c'è l'esterno Eh se la fai col flash si che vede Eh no Vai col flash Mi hai fatto bene poi Ma no Si Mi ha fatto la partita L'arca di Noè con il cannucchi parla Bello Il cannucchi parla Il cannucchi parla Il cannucchi parla Come cazzo è possibile? Eh? Si Si Usciamoci E ora se troviamo il signor di prima si Ma il signor di prima si è andato Si Si Ci ha accompagnato dentro e basta E lui gli ha visto il capone per entrare Gli ha detto lo figlio Aspettare 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 Vieni cosa c'è? Ah no, di qua c'è un'uscita Qui c'è Oh Ivan, vieni a fare la foto qui Ah che bello qui Con l'alacqua, occhio però Guarda qui che bello Vai, ok Aspetta Di lì è l'entrata che era sbarrata di là Certo Già, giusto Esatto Brumotti 2 Ma non crede che vedeva nero, e c'ho un obiettivo Sì Bravo Vedi nero Ma sai che faccio un paio di foglio qua Sì, sì, va Guarda lì, fai la foto dentro qui E qui dalla porta non c'è niente No, no Non è che Mi interessi molto di Ave Qui c'è la terrazzina di prima Per me è di l'alacqua Dì Che fai Ah, vieni Vai Vai Laggiù è chiuso Attenzione Guarda la scala qui a destra Cosa è successo? Cosa è successo? Bellissimo C'è un po' di casino Qui c'è del casino e basta Sì C'è ventole Sì È salito su prima Sì Sì È salito su Piano qui È infatti che la scala Ivan passa a destra che è più solida la scala È a destra, a destra A destra che c'è più Vai, vai, piano, piano Ora lui è il primo Qui c'è casino pure qui Ah, ecco è andato di qua Cosa? Il campo minato E' merda Oh, oh E' qui a fare delle foto dalla finestra Il video, non le foto Ha voglia Questa è bella da portare C'è una sedia Eh, non ce l'ho io Ce l'ha Ivan con la macchina Fabio andiamo Dai Aiuto Aiuto Ah ok, si gira di qua Mi fa l'ultima L'ultima Amore Hai già fatto qualcosa di qua? No, no, è vero Occhio, occhio qui Visto che la vuoi usarete Sì, mi piace troppo questa macchina Ho capito, ma è la mia Sì, sì Aspetta che facciamo le foto di qua Vabbè Eh, facciamo le foto Sì, facciamo le foto di qua Sì, facciamo le foto di qua Sì, facciamo le foto di qua Sì, vabbè Esatto Nel vero senso della parola Andiamo, andiamo Dai Fabio E ho occhio, infatti, Fabio, dove si mette i piedi, che bevono. Sì, sì. Del casino, esageratamente, tanto. C'è troppo casino qui. Vai, Fabio. La struttura dei mandoli, il sacro dal Buon Raffaele, in stessa cosa hai scritto. Gli imbeti sdraiati a normale. Ha scritto nessuno. Ti ha scritto sotto qualcosa. Qui c'è il pezzo di lamiera staccato. È un pezzo di lamiera staccato. Questa è tipo una specie di vasca, forse una panchina, boh. Dove? Dentro il palazzo principale. Guarda qua su, padiglione e giacinto, motta. Fitto lassù. Dopo fai la foto anche lassù. Cosa c'è scritto? C'è scritto sotto. Tutti i padiglioni ci avranno avuto un nome. Io non ci abbiamo fatto nemmeno caso. No, perché non stiamo guarda per aria. Ora io perché mi hai cascato l'occhio. Mi hai cascato l'occhio. Mettola a posto. Guarda che bello questo, vabbò. Che figo. Hai scritto qualcosa? Giacinto, motta. Non vedi le mattonelle? Già all'epoca usavano le mattonelle pisellate. Renditi conto qui. Sono delle scale ma... Vabbè sali su non è che. E' infatti. Qui dentro cosa c'è? Questa è la biglietteria. Si, che è la biglietteria? Pagavi tanto. Loro sono di qua e c'è la parte anche a destra di là. E' uguale. Qui di qui cosa si vede? Si. Aspetta Ivan, noi intanto andiamo qua, tanto siamo qui e ci vedi. Che figo. Oh babbo, il montacarighi. Questa è la montacarighi. Ma 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 questa è la montacarighi. Che bella. Questa è la montacarighi. E allora quella davanti a lei è un'altra roba che... Ecco esatto. Ma che bella però. F***. Perché la stai tenendo al contrario Fabio? Che bello qui. Guarda che io vado a fare il video di qua. Ma qui non c'è niente, proprio niente. Questa è. Non so chiudere. Qui non c'è niente, è zero. Chi è questo fischio? Che è un fischio. Che non capiva cos'è. Che puzzi. Si comunque io non vuoi dire che faccio cos'è la forza. Eh? Eh? Eh oh. Eh... Di cosa c'è? Non stacco qua. Che vado in tutto? Bene ragazzi, ora andiamo via. Usciamo di qui dalla colonia dopo questo video. Andiamo? Vabbè, ora proviamo a vedere... Fabio passa avanti e rincaggia la dura. Fuga per la vittoria. Fuga per la vittoria. Attenzione. C'è la bocca però. Ha un significato un po' ambiguo. Abbastanza. Alla Villa Massoni. Eh oh. Alla Villa Massoni ha letto remota. No, non ci vuoi. Dai andiamo. Uè! Dobbiamo fare tipo una forza tipo così. No se dai. Attenzione ragazzi. Fuga per la vittoria. Olè. Siamo fuori. Adesso... Ragazzi... Vi faccio rivedere qui la colonia e... Noi ci vediamo. Alla prossima esplorazione. Ciao!